Un giovane consulente, relativamente ignovo, credo, potremmo fare il suo esordio, questo figlio, un giovane consulente, chiamato John Puglis. Il regista, Will. Grazie. è stato un'unico molto buon anno, e anche per il suo giocatore, è stato un'unico molto apposta. E' un'unico molto caro, e' unico molto caro di amore, e' unico molto caro di amore, e' unico molto caro di amore. Ma poi non è un piacereo c'è anche inizio. Cosa è un po' da qualche cosa? che ciò che abbiamo fatto delle nostre persone molto semplicemente di un'occhiazza di una cosa che è stato che ciò che abbiamo fatto molto di questo lavoro e anche che ho ancora risposto che ciò che sia una cosa che ha anche che ha il corpo ha il corpo e il corpo ci sono tutte le mie due persone nei suoi iniziali lo spaziente se fosse un'ottima commento Grazie a tutti.